Fabio, metta sede a te il piano, come se guardassi la televisione. Beh, se sta sede a sede. E venerdì 30 luglio sarà la volta della compagnia dialettale Urbinate, che cosa porterete in scena? La Spagnara. E di che cosa tratta? Ah beh, di un signore, un certo Nietzsche, che sarei io, lo dico in dialetto, quindi deve avere un figlio a tutti i costi. La moglie è giovane, ma lui è vecchio, infatti sono vecchio. Trovano un escamotage per mettere in cinta sta ragazza. E così, la Spagnara, perché la Spagnara è un'erba che quando le pecore la mangiano si gonfia la pancia. E allora, ecco qua, era la mandragola. Non è il primo anno che portate in scena all'Arena BCC il vostro spettacolo? Questo credo che sia il quarto, se ricordo bene, perché ogni due anni circa... In quanti salirete sul palco? Ah beh, in totale siamo in sette, però ho scelto questa commedia proprio perché l'avevamo fatta nel 2004, se ricordo bene. Però è concepita in modo tale che sul palcoscenico ci sono sempre due, massimo tre personaggi. Non svegliamo altro, quindi venerdì 31 luglio la compagnia dialettale Urbinate vi aspetta all'Arena BCC di Fano. Esattamente, tutti, molti, non tutti. Aspettiamo tutti.